La novità che volevo annunciare oggi a Telequattro è che introdurremo un premio Barcolana 51 ed è il premio più bello probabilmente che sarà messo in paglio quest'anno del premio per chi arriverà ultimo alla Barcolana. La maglia nera! Nello spirito della Barcolana stiamo studiando ma nei prossimi giorni annunceremo anche quale sarà il premio ma quello che posso dirvi è che sarà un premio davvero molto molto bello per l'ultimo arrivato alla Barcolana. Quindi sarà una battaglia anche per arrivare ultimi. Perché immagino i triestini che a un certo punto o tolgono le vele o fanno qualcosa del genere. Esatto, già capita perché comunque abbiamo saputo che c'era qualcuno che gareggiava per arrivare ultimo e a questo punto abbiamo detto vabbè lo premiamo perché non è giusto che la gloria vada solo ai primi, ai secondi, a queste grandi barche ma deve andare alle barche piccole, a quelli che nonostante tutto ogni anno tornano in Barcolana, fanno festa, si portano come ci raccontava Sandro prima litri di vino e di birra e vivono con gioia questo momento in cui ogni tanto richiama, riecheggia l'inno, viva l'Aipo Bon. Molto bene, voglio intervistare chi arriva ultimo, lancio anche l'appello, quindi chi arriva ultimo dopo essersi accertato del posizionamento viene a Telequattro a fare l'intervista.